Cari ascoltatori di Radio Puginon Air, bentornati, benvenuti a un nuovo entusiasmante episodio del nostro podcast. Parleremo della finale di uno degli eventi televisivi più seguiti ed amati d'Italia, Amici 2024. Un'edizione che ha visto trionfare Sara Toscano, e lei la vincitrice, regalando emozioni e colpi di scena fino all'ultimo minuto. Preparatevi ad un episodio ricco di dettagli su questa serata incredibile e sui protagonisti che hanno reso indimenticabile questa edizione. La serata della finale di Amici 2024 si è aperta in grande stile, con l'entusiasmo palpabile in studio. I coach di canto e ballo, figure iconiche del programma, erano pronti a sostenere i loro allievi. Parliamo di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Emanuello e Lorella Cuccarini. Insieme a loro una giuria di qualità, composta da giornalisti esperti e giurati di spicco come Cristiano Malgioio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffre. Sara Toscano, allieva di Lorella Cuccarini, ha conquistato il titolo dopo una serie di esibizioni mozzafiato. La sua vittoria è stata il culmine di un percorso di crescita artistica e personale, riconosciuto e applaudito non solo dai suoi coach, ma anche dal pubblico e dalla critica. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme i momenti salienti di questa emozionante finale. La gara è iniziata con le prime esibizioni dei protagonisti del circuito canto. Sara è stata la prima a passare il turno, seguita da Holden. Purtroppo per Petit e Mida la sorte è stata diversa. E Mida a dover abbandonare il programma per primo. Un momento commovente, sottolineato dalle parole di Maria De Filippi, che ha ricordato come Mida avesse predetto la sua uscita. L'Orella Cuccarini ha voluto incoraggiare il giovane talento, esprimendo la sua convinzione nel successo futuro di Mida, anche a livello internazionale. Un addio carico di emozione, ma anche di speranza per il futuro di questo giovane artista. La seconda eliminazione è l'addio ad Holden. La gara è proseguita con la tensione che aumentava. Holden è stato il secondo allievo a dover lasciare il palco. Un momento di grande emozione, anche questo con Maria De Filippi, che ha elogiato il talento di Holden, augurandogli il meglio per il futuro. Petit e Sara sono così rimasti gli unici due cantanti in corsa per la vittoria. Marisol nel circuito danza. La competizione è stata altrettanto intensa. Dustin e Marisol si sono sfidati fino all'ultimo, ma è stata Marisol a trionfare al televoto, guadagnandosi il titolo di vincitrice del circuito danza. Dustin, nonostante la sconfitta, ha ricevuto numerosi complimenti e opportunità future. Maria De Filippi ha sottolineato la professione. Maria De Filippi ho detto, questa è bella. Forse una parente del grandissimo Eduardo De Filippa, ma lasciamo perdere le battute, dicevo che Maria De Filippi ha sottolineato la professionalità e la dedizione di Dustin, qualità che gli hanno permesso di ottenere un contratto con la Parson Dance. Uno stage per il musical Tarzan e un contratto di quattro settimane con un'altra prestigiosa compagnia di danza internazionale. Anche Marisol ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui una borsa di studio per la Highly School della durata di un anno. L'ultima sfida è stata tutta al femminile con Sara Marisol a contendersi il titolo di vincitrice di Amici 2024, un duello all'ultimo respiro che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Sara, con la sua voce potente e la sua presenza scenica, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori e della giuria, portando a casa la vittoria. Vediamo ora insieme i premi e i riconoscimenti. Oltre al titolo principale, la serata ha visto l'assegnazione di numerosi premi minori, riconoscimenti importanti per i talenti emergenti del programma. Marisol ha vinto il premio della critica del valore di 50.000 euro, mentre Petit ha ricevuto il premio speciale per la comunicazione del valore di 40.000 euro. Holden è stato premiato con il premio delle radio e Dustin ha ottenuto il premio Spirito Libero offerto da Oreo del valore di 30.000 euro. Infine, tutti e cinque i finalisti hanno ricevuto il premio Keep Dreaming del valore di 7.000 euro ciascuno. E riflessioni finali dunque su questa finale di Amici 2024, che è stata una celebrazione del talento, della passione e della dedizione. Sarà Toscano e Marisol hanno dimostrato di essere due artiste straordinarie, ognuna con il proprio stile e la propria personalità. Il loro percorso all'interno del programma è stato un viaggio di crescita e di scoperta che ha ispirato migliaia di giovani telespettatori a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli. Ringraziamo tutti voi, cari ascoltatori, per essere stati con noi in questo viaggio attraverso le emozioni e traguardi di Amici 2024. Continuate a seguirci su Radio Pugginion Air per ulteriori approfondimenti, interviste esclusive e tanto altro al prossimo episodio di Radio Pugginion Air.